Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura all'emergenza sanitaria dati in rialzo nei comuni del Vesuviano, due decessi registrati ieri a Torre del Greco e intanto i sindaci puntano a rafforzare i controlli il vaccino al centro del dibattito politico in Italia e intanto il nuovo commissario all'emergenza è Francesco Paolo Figliuolo. Torniamo a Torre del Greco per parlare della campagna vaccinale per gli over 80 dopo la denuncia della CGL qualcosa sembra muoversi. Cinzia Mirabella, neo-assessore della Giunta Palomba, l'abbiamo ascoltata ai nostri microfoni. In chiusura l'incontro tra la Gori e l'amministrazione comunale di Torre del Greco per l'istituzione di nuove case dell'acqua sul territorio e per avviare nuovi interventi alla rete idrica e fognaria. Ne abbiamo parlato con l'assessore Giuseppe Speranza. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Boom di contagi nella giornata di ieri a Torre del Greco. Nella cittadina torrese si sono registrati infatti 164 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui solo due in regime ospedaliere e i restanti in isolamento domiciliare. Si registra inoltre un ripositivizzato e il passaggio di tre soggetti dal regime domiciliare a quello ospedaliero. Comunicate anche due decessi, si tratta di un classe 1955, la cui positività Covid è stata attestata post-mortem, è un classe 1958. Il bilancio a Torre del Greco, quindi, conta 52 ospedalizzati, 903 in isolamento domiciliare e il numero totale dei morti, che sale a quota 109. A Torre annunziata, invece, sono 40 nuovi casi di contagio a fronte dei 337 tamponi effettuati, con un indice di positività che si attesta all'11,86%. Al contempo, si registrano anche 65 nuove guarigioni e il decesso di un uomo di 81 anni. Scende quindi il numero di cittadini attualmente positivi nella città oplontina, che ad oggi sono 793, di cui 41 con variante inglese. Il sindaco Ascione ha infatti emanato un'ordinanza che vede la chiusura dalle ore 11 alle ore 22 di tutte le strade principali della città, soggette a maggior affollamento. Aumento dei casi registrati nel weekend anche a Stella Mare di Stabbia, dove i positivi sono 231 a fronte dei 1000 tamponi effettuati. Sono 15, invece, le guarigioni, tra cui 4 ragazzi di età compresa fra i 13 e i 14 anni. I positivi nella città stabiese sono quindi 1860, con un numero di decessi a quota 60. A Ercolano sono 277 i tamponi lavorati, di cui 59 hanno dato esito positivo a fronte di 40 persone guarite, uno dei quali con variante inglese. I cittadini positivi totali sono 416, 41 dei quali con variante inglese. A San Giorgio a Cremano il numero dei positivi in città è di 230, di cui 98 negli ultimi 5 giorni, con un'impennata di contagi sui cittadini di età compresa fra i 6 e i 10 anni. Resta quindi delicata la situazione in campagna, alla vigilia di un nuovo DPCM che sarà varato a breve e che vedrà quasi sicuramente una rimodulazione delle fasce, rendendole più rigide nelle aree che presentano un quadro di contagi critico. La campagna, ad oggi con un rapporto tamponi positivi pari al 12,96%, resta quindi sull'attenti e non lascia sfumare il pericolo lockdown generalizzato in tutta la regione. Mario Draghi, volta pagina, espedisce a casa Domenico Arcuri. L'ormai ex commissario per l'emergenza Covid è stato sollevato ieri dall'incarico del Presidente del Consiglio. Sono onorato di aver potuto servire il mio paese in una stagione così drammatica, il congetto di Arcuri, che ha lasciato a sua volta il posto a Francesco Paolo Figliuolo, comandante logistico dell'esercito dal 2018. All'inizio della pandemia era stato incaricato dell'identificazione e gestione delle risorse umane e materiali da mettere in campo nel contrasto alla pandemia. Figliuolo si era anche occupato del rientro degli italiani che si trovavano a Wuhan, in Cina, ospitati poi nella bolla dell'aeroporto militare di Ciampino. Una scelta condivisa dalla larga parte del mondo politico. Grazie Presidente Draghi, missione compiuta, scrive su Twitter Matteo Salvini. D'accordo gli altri esponenti del centrodestra, Meloni per Fratelli d'Italia e Tagliani per Forza Italia. Soddisfatto anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che parla di direzione chiesta da mesi. Il lavoro di Figliuolo non potrà che incentrasse sulla questione vaccini. Continuano i ritardi da parte delle cause farmaceutiche nella distribuzione delle dosi, ragion per cui la comunità scientifica apre la possibilità di somministrare una sola dose. Un cambio di strategia che, unito ai risultati confortanti in tal senso, potrebbe accelerare il piano vaccino, sottomonendo all'inizione un maggior numero di persone. Intanto i numeri della pandemia in Italia continuano a preoccupare con le zone arancioni e le microzone rosse che continuano a moltiplicarsi. Effetto delle varianti, per le quali il vaccino però sarebbe ugualmente efficace. Pietro Panariello, responsabile della SPI-CGL, il sindacato dei pensionati. In questi giorni molte lamentele e molti disagi per gli over 80 che devono fare la campagna vaccinale. Che cosa sta succedendo? Io in questi giorni, oltre a fare le prenotazioni sulla piattaforma online per gli anziani, perché sono provvisti di telefonini, di computer, sto avendo la mentele per gli anziani oltre 80 anni, perché dovrebbero andare a Gragnano per la vaccinazione. Il che è assurdo perché gli anziani o per patologia o perché non sanno come andare senza mezzi, senza familiari, stanno avendo difficoltà. Mi sono rivolto al distretto dell'Astra Napoli 3. Il direttore mi ha promesso e sto constatando che è la verità, che per gli oltre 80 anni li farà vaccinare nel locale della Santissima Trinità Torre da Greche e stamattina ho potuto constatare che si stanno già preparando. Dopo l'intervento del sindacato, l'ASL sembra correre ai ripari. Nel giro di pochi giorni i locali della Santissima Trinità saranno attrezzati per la campagna vaccinale. Per quanto riguarda poi chi già ha ricevuto la comunicazione che dovrebbe andare a Gragnano, per questo purtroppo non possiamo farci niente, però se qualcuno rifiuta oppure non è potuto andare, il direttore del distretto farà di tutto, farà di tutto per farle vedere a Torre del Greco. Senza nulla togliere i centri vaccinali di Gragnano e Pollena, ma è giusto che una città come Torre del Greco abbia un suo centro vaccinale, anche per gli over 80. Sì, è così. Per una città come Torre del Greco è giusto che ci sia questa struttura vaccinale. Voi come sindacato continuerete a vigilare che gli impegni assunti questa mattina vengano poi rispettati? Sì, senz'altro. Saremo vigili, tutti i giorni saremo vigili, controlleremo che tutto avvenga per bene e speriamo che ciò che ci hanno promesso sia vera. Luca Chius è il segretario cittadino della CGL. Dopo l'intervento del vostro sindacato, in particolare della SPI, CGL per la questione della campagna vaccinale per gli over 80, sembra che qualcosa si stia muovendo. Eh sì, voglio dire alla fine è anche giusto. In realtà, quale Torre del Greco che ha 18.000 anziani dai 65 anni ad andare avanti, penso che un problema c'è e deve emergere questa situazione. La nostra realtà, non so, ancora per l'ennesima morte, Torre del Greco, non viene vigliata neanche in considerazione rispetto a quelli che sono i problemi. I dati che ci stanno oggi rispetto, anzi, ai dati di ieri, che ci danno 166 casi positivi, ci sono 102 morti, 103 morti. I dati sono preoccupanti e non ci sono controlli. Non ci sono controlli perché sostanzialmente avrebbero bisogno di un'assistenza non solo medica ma anche di un'assistenza dell'Asla regionale da questo punto di vista. Io in molte occasioni mi trovo a dire ma perché Torre del Greco è così martoriata? Quale peccato ha fatto la nostra cittadinanza ad essere tartassata da tutte le questioni che riguardano non solo la sanità, immondizia, tutto quello che c'è sul territorio? Non ci meritiamo questo. Qual è il peso politico di Torre del Greco a livello regionale? Nelle parole di Luca Chiusel, segretario cittadino della CGL, l'amarezza di chi si è sempre mobilitato per affrontare e risolvere le vertenze del territorio, a cominciare dal caso dell'ospedale Marisca. Non ci meritiamo questo. Siamo dei cittadini veramente per bene e non ci meritiamo questo stato di situazione. Secondo lei di chi sono le responsabilità dell'amministrazione locale o anche a livello regionale? Torre del Greco non ha un peso politico che riesce a determinare alcune scelte sul territorio. Guarda la questione vaccinale che sostanzialmente voglio dire dove c'è un'esigenza reale e viare già un percorso dei vaccini Torre del Greco non ha questo tipo di sito organizzativo. Ha stato intanto di aprire l'annunziata per fare cosa? Perché Torre del Greco ha 184 mila abitanti quindi è un problema di razionalizzare i punti covid. Ha l'esigenza di fare questo. Non c'è un piano organizzativo. Vuoi che la regione snobba Torre del Greco perché voglio dire ha portato i piani vaccinali quando riguarda Polo e Natrocchio con tutto il rispetto. Ha portato i piani vaccinali quando riguarda Gragnano. E su Torre del Greco non solo gli anziani si vedono abbandonati ma c'è anche un pezzo che va da 65 anni ad andare avanti che viene abbandonato a se stesso. Comune dovrebbe fare più peso presso la regione Campania ma un peso notevole e far valere la forza degli abitanti e far valere tanti tipi di situazioni. Io sono stato uno dei promotori insieme a te sulla questione dell'ospedale Maresca gli anni passati. Ne ho avuto tante di quelle critiche come se il mio atteggiamento fosse stato chissà quale e chi difendevo gli pa... Però posso dire che da allora che ho lasciato un pochettino questa situazione la cosa si sta aggravando. Ma tutto questo perché? Perché non c'è un peso politico comunale che riesce a far sì che Torre del Greco diventi realmente non solo un punto nevralgico sulla sanità. E allora il mio sollege... Ecco il suo appello a chi va? Va all'amministrazione comunale innanzitutto perché è l'ente di riferimento. Oggi vediamo che fanno un'altra volta un consiglio comunale per deliberare la questione dell'ospedale Maresca dove noi abbiamo fatti non so quanti. Alla fine mi auguro ma lo giuro con il cuore che la mia Torre del Greco, la nostra Torre del Greco riesca ad avere quell'impulso e quella voglia di fare perché ha tante di quelle esperienze da mettere in campo. Abbiamo delle persone che sono veramente eccezionali che però non riescono ad emergere a dare un grande butto. Allora io questo chiedo. sempre vicina alla mia città non ho mai smesso di seguire le vicende di Palazzo Baronale. Cinzia Mirabella, neoassessore alla NU dell'Aggiunta Palomba, così ha commentato ai microfoni di TV City la sua nomina. Non mi sono mai allontanata, la mia passione per la politica mi ha fatto sempre seguire con grande interesse le vicende di Palazzo Baronale, quindi mai allontanata e sempre vicino alla mia città. Ieri la firma in comune. Alla neoassessora vanno le deleghe alla nettezza urbana, al verde pubblico e alla polizia municipale. Punterò tutto innanzitutto sulla mia esperienza amministrativa da politico e poi mi sento molto serena perché sono affiancata da due validi consiglieri che ringrazio, anzi colgo l'occasione per ringraziare che sono Luigi Mele e Mario Buono e ovviamente anche il nostro sindaco. La città è allo sbando, ha commentato. Sin da subito mi sono attivata per risolvere le criticità sul fronte rifiuti incontrando la ditta e il personale. Cercheremo di capire quali sono appunto le falle di questo processo perché qualcosa non funziona e va innanzitutto capito, inquadrato e stanato perché non si può proseguire così, siamo in una città allo sbando, ovviamente i marciapiedi hanno momenti in cui di difficoltà sono saturi di spazzatura quindi vanno ovviamente interessati gli uffici e capire lì dove bisogna intervenire e magari perseguitare chi appunto sta commettendo un illecito perché bisogna capire se sono cittadini, se sono appunto interventi mirati nel voler creare difficoltà. Bisogna un po' capire adesso dove bisogna andare a rafforzare appunto il nostro impegno. Assessore, tra le sue deleghe è anche quello alla Polizia Municipale. In un periodo storico che vede una città che chiede soprattutto maggiori controlli. Maggiori controlli, questo sicuramente, vanno ovviamente a braccetto con la NU perché questi controlli dovranno essere soprattutto verso coloro che non rispetta le regole. Siamo in un momento storico molto difficile e molto particolare perché questa pandemia non ha fatto purtroppo sconti a nessuno, soprattutto per quanto riguarda ovviamente il personale che in alcuni momenti ovviamente è stato decimato e noi cercheremo ovviamente di essere vicini, di capire laddove ci sono criticità e anche di verificare se è possibile incrementare l'organico o spostare risorse che possono esserci di aiuto. Cinque nuove case dell'acqua sul territorio di Torre del Greco, l'estensione della rete idrica in via Montedoro e della rete fognaria in via Lagno-Rivieccio. Sono le novità emerse dall'incontro tenutosi nei giorni scorsi tra Gori e Comune di Torre del Greco. Negli studi di TV City l'assessore dei servizi tecnologici, Giuseppe Speranza, illustra le attività e gli interventi che a breve verranno realizzati. Finalmente dopo alcuni anni siamo riusciti a mettere insieme ente comune e Gori per la definizione di alcune attività da tenersi sul territorio. In primis anticipo che avremo ulteriori casette dell'acqua per evitare il consumo indiscriminato di bottiglie di plastica che è notorio, creano non pochi problemi. Dove saranno posizionate queste case dell'acqua? Abbiamo utilizzato un criterio di dislocazione su tutto il territorio. In primis si pensava solo a quattro punti, poi in estremi si sono riusciti a strappare anche una guinda che sarebbe situata nella zona di Cappella Nuova, zona Belvedere. L'avremo a Leopardi, l'avremo alla Litorale, l'avremo in località Santa Teresa e l'avremo in località Scappi Bianchini, Montedoro, insomma in quella zona. Oltre alle casette dell'acqua un'altra attività molto interessante è che finalmente dopo tanti anni riusciremo a collegare l'ultimo tratto di via Montedoro all'acquedotto Gori. C'erano intere famiglie, circa una trentina di nuclei familiari che non erano serviti dall'acqua ad utilizzo pubblico e quindi anche questo aspetto sarà definito, credo, nel giro di alcuni mesi. Anzi, in questa settimana si procederà già alla sottoscrizione per le richieste da parte dei cittadini in modo che la Gori avrà contezza di quanti utenti effettivamente avranno bisogno di essere approvvigionati. Invece per la zona dei Lagni? I Lagni è stata un'altra attività che vede la sua risoluzione. Tra i tanti alvei abbiamo Lagno Riviecio che non era servizio di fognatura, anche quello rientra in questo programma, in questo protocollo che siamo riusciti a definire con la Gori. Abbiamo altre situazioni che saranno poi definite e portate a termine, nell'ottica di migliorare non solo l'ambiente esteriormente ma anche l'ambiente sotterraneo, che è un ambiente che non tutti conoscono. La scorsa abbiamo assistito a un evento poco piacevole che è quello della rottura di una condotta dedita al sollevamento delle acque reflue dalla litorania che venivano poi convogliate nel depuratore di Santa Maria della Bruna. Purtroppo, a causa delle condizioni atmosferiche degli ultimi giorni, c'è stata la rottura di una delle tre condotte che sono dedite al sollevamento e al pompaggio di queste acque. Fortunatamente, grazie all'intervento dei tecnici della Core, della stessa ditta di manutenzione RDR e dei nostri tecnici comunali, abbiamo visto la risoluzione in poche ore durante la notte e con questa situazione è stata appianata. L'amministrazione di cui mi onoro di far parte attenta tutte le problematiche che affliggono il nostro territorio. Spesso non siamo presenti su tutte le cose che non siamo a conoscenza, però tutto ciò che ci viene comunicato noi interveniamo. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando una mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro Tg. Al prossimo episodio Anche La 240